Io non so ne... io mi so... io da ieri anche perché e qui dico una cosa avrei bisogno di parlarne perché io ieri come mi sono esentato da vedere qualsiasi cosa io ieri mi sono spaccato tutto Squid Game The Challenge e ho bisogno di qualcuno con cui parlarne quindi boh Manuxo se ti va guardalo tu perché io devo parlare di Squid Game The Challenge no ragazzi Squid Game The Challenge non voglio generalizzare ma in quel programma le donne sono l'apoteosi dello schifo più grande che io abbia mai visto porco dio ma stavo così sì così i maschi tutti precisi tutti bravi le donne sì delle infami ma delle infami di dimensioni imparazzanti porco dio stavo incazzatissimo ma vabbè andiamo a vederlo sto trailer che ha droppato ieri a mezzanotte grazie Rockstar Grazie a tutti 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 Grazie a tutti